I migliori specialisti a disposizione per un consulto anche nei centri ospedalieri più piccoli. E la straordinaria opportunità offerta dalla tecnologia è diventata realtà nell'aslo toscana sud-est grazie ad un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta della prima convenzione di questo tipo a livello nazionale e mira attraverso la telemedicina a facilitare le attività diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in un territorio particolarmente esteso e frammentato. È la prima esperienza italiana di raccordo fra un'azienda sanitaria e il massimo istituto italiano di studio, ricerca e per l'innovazione in particolare con il Centro Nazionale per la Telemedicina. Lo scopo è da un lato poter seguire a domicilio in sicurezza pazienti fragili che si spostano solo in ambulanza per capirci con una grave insufficienza respiratoria o scompensa cardiaca. dall'altro collegare la rete degli nostri 13 ospedali, anzi 14 perché c'è anche l'azienda ospedaliere universitaria nella partita in modo che ci sia lo specialista adeguato anche in televisita, in teleconsulto, anche nel più piccolo ospedale a bassa intensità di cura. La telemedicina usa i sistemi di telecomunicazioni e le nuove tecnologie digitali per fare in modo di spostare dati, informazioni da un sanitario all'altro, da un ospedale all'altro nel caso del nostro progetto, in modo tale che in qualunque accesso di pronto soccorso in qualunque presidio dell'azienda sia possibile avere un conforto di una ulteriore consulenza di uno specialista laddove i medici del posto ritengano che sia necessario. Abbiamo deciso di fare la prima sperimentazione in questa ASO in cui ci troviamo oggi proprio per la strutturazione dell'azienda, per il modello a rete che ha impostato e per l'accellenza che rappresenta e quindi sicuramente se qui avrà esito positivo come lo crediamo e lo speriamo e ci sono tutte le condizioni, il modello poi verrà esportato a livello nazionale.